Impara ad usare Amazon come tuo dizionario personale. Sì, hai capito bene, guarda il reel fino alla fine e salvalo perché sto per dirti un segreto di cui nessuno ti ha mai parlato prima di oggi. Supponiamo che io voglia sapere come si dice in inglese aspirabriciole, vado a cercarla sul mio dizionario. Ma ops, non mi trova la parola, non l'ha stata radurre. Ecco che allora che cosa faccio? Vado su www.amazon.com anche se non ho un indirizzo in America perché tanto non sto per comprare nulla ma voglio solo utilizzare Amazon come dizionario. Non sapendo come si chiama l'aspirabriciole andrò a scrivere qualcosa come piccola aspirapolvere quindi scriverò little vacuum ovvero piccola aspirapolvere ed andiamo a vedere che cosa mi trova. Allora il primo risultato è mini cleaner, mini cleaner. Ma non è esattamente quello che stavo cercando. Ecco, io sto cercando questa. Come me la chiama? La chiama hand held vacuum, hand held, cioè che si tiene in mano, portatile. Ma andiamo a vedere se ci sono altri risultati che mi confermano o mi danno delle altre opzioni. Qui abbiamo una che si chiama dust buster, parola molto interessante perché buster in inglese è il combattente come per esempio in ghost buster e dust buster è il combattente della polvere. Quindi ecco che abbiamo una parola molto interessante. Ancora riconfermata sotto, dust buster, richiamata anche però hand held vacuum, cordless, perché senza fidi. Quindi come vedi attraverso l'aiuto delle immagini abbiamo tradotto una parola che il dizionario non sapeva restituirci in inglese utilizzando Amazon come il nostro nuovo strumento di ricerca. E ricorda, I speak lowbish and you?